Mattina di mercoledì, stiamo per andare ad Amalfi. Il tempo non è molto clemente. Ecco, signora maestra ha detto che il tempo non promette niente di buono. Difatti, ammirare per credere. Siamo sul malo di Positano, la piazzetta, la Laura studia il programma per patria. Guarda che bella giornata che si prospetta. E se riesce ad aprirsi un po'? Siamo a bordo se non si vede dal vetro schizzettato. Siamo ancora a Positano. E poi ha il sole. Leo dice che viene fuori il sole, bisogna avere tanta fede. Ma tanta. La marina grande di Positano. La marina grande di Positano. Questa è la parte di Cornillo. E poi questa è la vera e propria Positano con la chiesa. La marina grande di Positano. Guarda che bello, i paesi fin su in alto. Ancora Positano, da lontano. vediamo, andiamo per lontano. Andiamo verso un'altra partia. Andiamo verso il maestro. Andiamo verso il maestro. Andiamo in alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.